Amici del complessino degli Elio e le storie tese, ciao sono Faso, oggi vi suono la parte di basso del brano Come gli area. Caratteristica di questo brano è che contiene alcuni obbligati, cosa sono gli obbligati? Sono quelle parti che si suonano sempre uguali, sono fatte così, e alcune parti invece che sono libere. Si suona sugli accordi, ovvero dati gli accordi io decido di suonare questa nota, quest'altra nota, con questo ritmo, con quest'altro ritmo. Perché? Perché sono fatto così, ma perché la libertà è una cosa molto bella anche all'interno di un mondo, diciamo così, scritto. Cosa posso dirvi di più? Ecco a voi, Come gli area, baseline. Vai pure. Vorrei suonare come gli area, il gruppo italiano, ma i pezzi sono molto difficili. In questo gruppo italiano, non sono capace di suonare i pezzi degli area, perché sono dei mani possibili, le canzoni degli area. Allora sai che faccio? Scrivo una canzone che assomiglia a una canzone degli area. Me la studio bene, perfettamente bene, e poi la canto per te. Che bravi che erano gli area, international, popular group. Demetrio cantava di brutto, oh, accompagnato da musicisti che suonavano di brutto. Esploravano musiche nuove, e la gente ascoltava, un pubblico costituito, da giovani comunisti, cappelloni e drogatti. Come tutti sanno, il pubblico fascista non ha mai capito un canto di musica. Sì, però i compagni, quando c'è da tirare fuori i soldi, tutto tagli. Se c'è una cosa che mi dispiace, è che non li ho mai visti d'ambito. All'epoca ero solo un bambino, figurati se i miei genitori mi portavano al concerto degli area. Facchi pecchiettoni, tanti comunisti, troppa gente che non paga il biglietto. Mancano i provvedzi alla fine di me che rimangere, gli soventi. Alla fine il suo pezzo stile area è venuto benino. Se l'avesse lo scritto proprio di area, sarebbe un casino. Questo lo puoi cantare, senza essere strato. Questo lo puoi suonare, senza essere toppani, pariselli, tavolazzi, capiozzo. Senza essere gli area. Grazie. 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 Grazie.